Ciao, sono Martina, sono una facilitatrice e faccio parte di Transition Italia. Il mio lavoro è accompagnare gruppi, associazioni, comunità a dare il meglio di sé in tutte le fasi della vita di un gruppo. Quindi da trovare una visione degli obiettivi condivisi, a superare i momenti difficili, a fare appello all'intelligenza collettiva del gruppo. Per fare questo ci sono tantissimi approcci, metodi e tecniche che rientrano sotto il grande cappello della facilitazione. Quindi quello che faremo nel corso sarà assaggiare, cosa significa facilitazione, che cos'è, e imparare alcuni semplici strumenti che vi potranno essere utili nella vostra vita quotidiana, nel vostro gruppo. Quindi da gestire le riunioni in maniera efficace, alla gestione del tempo, alla gestione delle discussioni in maniera fluida. Ci vediamo presto, ciao!